Ti innamorerai? Non credo. DBS4? Forse sì. Forse sì? Forse sì. Potrebbe essere. E a questa domanda, che è la puntata della serie 2 di Inside the Game, il videoblog amato da nessun italiano in particolare, ma in generale da molti europei, ma anche dai cacciatori di organi indonesiani. Sì, in Indonesia siamo più forti. In Indonesia siamo più forti. E appunto a questa domanda risponderemo con questa nuova effervescente puntata storica perché abbiamo finalmente introdotto quello che tutti voi ci chiedevate a gran voce, anche se nei commenti non si sente la voce, ma questo è un altro discorso. è un altro discorso. Cioè, finalmente, la regia. è un altro discorso. Ed eccoci qua, quindi dentro al videogioco, come voi ben sapete perché insomma siete dei nostri fans svegatari. Dicevamo, puntata dedicata a PlayStation 4, uscita negli States ormai quattro giorni fa. Perché ridono? Perché questa puntata avevo dovuta insomma un pochino... è stata sofferta. Ecco, siamo un po' affaticati. Dicevamo, uscita quattro giorni fa, uscita col botto negli Stati Uniti, perché insomma abbiamo fatto registrare preordini record, parleremo poi anche di 20 record, e il nostro direttore artistico Fattotomo, appunto, ha fatto iniziare questa puntata con Tina Monerai di Vasini, perché chissà, magari anche Pierpaolo, Dormaster, il più boxaro che c'è, a detta vostra, a detta vostra, base non YouTube feedback, potrebbe inaugurarsi questa conso che appunto sta avendo un discreto successo. E sicuramente le premesse ci sono. Premesse che si vedono dagli argomenti che ci siamo studiati. Tu di cosa ci parli? Vi parlo del PlayStation Early Access, cioè questo evento che è stato organizzato in quel degli Stati Uniti, insomma, per parlare del lancio di PS4, per presentare appunto il lancio in compamagna di PS4. Tante, insomma, personaggi di Sony che hanno premiato i clienti in fila per acquistare le PS4 dovevano essere anche presentati svariati giochi. Si era detto giochi nuove esclusive, o comunque nuovi giochi in esclusiva, o nuove esclusive dedicate a giochi già presentati. Era partito ovviamente il carrozzone dei rumor, con rumor stravaganti tipo Gears of War su PS4. Ovviamente non è stato così, però il colpo al cuore è arrivato, almeno in Cata Doll Masters, perché è stato annunciato il nuovo Uncharted. Di cui abbiamo un video! Di cui abbiamo il video, il teaser, esattamente. Che è questo qua? Che non ci mostra niente in particolare, insomma, del gioco. Il teaser del trailer! Esatto! Il teaser del trailer! Vabbè, ma basta questo per i fan! Assolutamente! Assolutamente! Poi da qui, tra l'altro, da questa mappa si capiscono molte cose, per esempio il gioco è diventato il Madagascar, cosa che tutti avevano capito! Tutti avevano detto la mappa, che voleva, insomma, la gioco di Inside the Game per leggere il Madagascar, lo vedete? Esatto! Che varia di vendetta, a quanto pare, dei nemici che ritornano, non sappiamo se contro Nathan Drake, perché in effetti non c'è stato detto niente, quindi potrebbe essere un prequel, uno spin-off, un po' di tutto. E non c'è un 4, che c'è un 4. E questo, insomma, favorisce queste ipotesi un po' più strampalate, diciamo. Quindi presentato Uncharted, presentato Tiserato, insieme al DLC esclusivo, vabbè, chiaramente, di The Last of Us, e poi altre, diciamo, esclusive legate a giochi già usciti o in uscita, ad esempio la beta esclusiva del PS4 di Destiny, il nuovo, insomma, la mortificata di Bungie, anche se qui ho qualche dubbio c'è, nel senso che la beta sarà disponibile sicuramente per tutti coloro che hanno prenotato il gioco prima del primo ottobre, quindi due mesi dopo, praticamente, un annuncio in cui si dice, guarda che se avrei prenotato il primo ottobre avrai la beta. Se ce l'avevi fatta prima, ci sarà un'estrazione tra quelli che prenderanno ovviamente il gioco successivamente, che saranno sicuramente più di quelli che l'hanno già prenotato. Comunque sono pure gente che lavora gratis, tutto sommato. Early access che ha avuto un certo successo, io invece decido di parlarvi di un aspetto più commerciale di PS4, e cioè del posizionamento di mercato che Sony sembra voler prendere, anzi, sembra, ha voluto prendere, con questa nuova console. Mentre con PS3 si era detto il cavallo di droga del vostro salotto, l'oggetto che tutti dovrebbero avere perché fa tutto, cioè il Blu-ray, tanti l'hanno comprata come il lettore Blu-ray più economico sul mercato a suo tempo, con tutto che costava 600 di bombe. Adesso invece, con lo spot americano This is for the players, Sony lancia un chiaro messaggio alla concorrenza e anche ai suoi fan. Siamo tornati a pensare a voi, videogiocatori, e la nostra console è dedicata a voi. Tante cose, in fondo, sono effettivamente molto, molto gaming-oriented e questo ha permesso a PS4 di vendere in un giorno, pensate, circa un numero di tesi, che è un record nella storia assoluto, anzi, paragonato al primo mese di lancio di tutte le altre console uscite, PlayStation 4 stralince una battaglia in un solo giorno. Questo ovviamente fa ben sperare, però non so. Intanto sono unità a piazzare subito. Purtroppo però c'è sempre la faccia un po' più bruttina. C'è un ma. C'è un piccolo ma. Questo ma è che alcuni mi dà un buon numero, perché secondo la stessa Sony sarebbe circa l'1% di quelle distribuite in Nord America, hanno avuto dei problemi. Problemi che sono stati dividiti. Vi diciamo subito che sono uno risolvibile, l'altro allo stato attuale è ancora irrisolvibile. Quello irrisolvibile è il misterioso problema che fa sì che quando la console viene connessa e soprattutto accesa, il display blu che la contorna dovrebbe diventare bianco per poi tornare blu. Invece molte, molte, alcune macchine questo non succede, rimane in questa modalità provvisoria pre accensione diciamo, e quindi c'è gente che la connessa che non ha funzionato proprio. Bene, il problema online non è. Esatto, è una cosa molto brutta, però almeno non ci giocate proprio, perché non è che succedissimo. Non vedete, ecco. L'attacchi esplode. Invece l'altro problema è quello che è stato, per certezza, risolto da Kotaku e che era collegata a quanto pare a degli misteriosi tweet apparsi tra i vari studenti che lavorano a Foxconn in fabbrica cinese dove viene assemblata la PS4 e anche le altre, dove la gente muore, viene trattata molto male, che a quanto pare quindi perivica per questo trattamento poco, insomma, poco, diciamo positivo nei loro confronti, avrebbero sabotato alcune immunità, rendendo impossibile inserire il cavo HDMI nel posteriore. Tra l'altro era uscita la notizia che alcuni studenti erano stati usati in Foxconn Sì, perché vengono reclutati in massa da varie città quando... Ciao Cina! Ciao Cina! È meraviglioso essere lì con voi. Comunque sia, queste cose sono assolutamente naturali quando viene lasciato il nuovo hardware, quindi dobbiamo assolutamente prenderle in considerazione, ma non farci terrorizzare perché non vuol dire nulla. Quello che è un po' più preoccupante sono le recensioni che non sono tutte positive. Knack, per esempio, sembra un gioco moscio. In realtà io ci hanno scommesso il peccato. Amazon, invece, ha riscontrato giudizi molto difformi. Alcuni lo critico di essere troppo simile ai precedenti, altri di essere soltanto grafica. In realtà quello che abbiamo visto non è proprio male, anche se comunque il feeling delle armi non riesce a darmi il senso di violenza reale e questo apre, però potrebbe essere un problema soggettivo. Invece abbiamo anche il video di quello che in questo momento è uno dei migliori progetti che abbiamo visto sul PS4, che è il suo brand. È un luogo indipendente, dalla parte dello stesso studio che ha fatto il K-Out da qualche anno fa. È uno sparadutto di vecchio stampo, diciamo, in cui si può procedere nel senso nell'altro e in cui non ci vedono. La cosa interessante è che ho visto la stessa tecnologia di Minecraft, quindi tutti i riviti di spoglio con... Vorex. 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 più voluto per PlayStation 4. Allora, esaurito l'argomento, andiamo con le nostre rubriche. Sapete che adesso abbiamo delle rubriche che abbiamo create per voi e anche un po' per noi. La prima è il trailer della settimana. Ogni settimana vogliamo commentare con voi un trailer, visto che adesso abbiamo la possibilità di mostrarvelo. Questa volta ci siamo dati al gameplay 1 Super Mario simbolo fallico 3D World. Perché simbolo fallico? Io l'ho vista! Eh, la quotida del diavolo a me! Mamma mia! Ma non è che puccia un po', eh? No! Non lo so, magari c'ho il teatro fisico, tutti questi punti, tutti questi punti e queste cose mi preoccupano sempre. Comunque, trailer che assolutamente dimostra quanto il Wii U è ben lontano da essere morto, perché poi quando vedi queste cose ti rendi conto che i videogiochi della Nintendo fatti per le macchine Nintendo e soprattutto per i giocatori Nintendo, che secondo me non riescono a essere i videogioteri di tutto il mondo, perché sono proprio gameplay puro e divertimento allo stato puro, non ti dubbolo male. Ma soprattutto c'è sempre voglia di un gioco di Mario per fatto, insomma io non mi sono mai staccato. Io sono con un sacco di novità poi, con queste cose interessanti che sarà divertente a me a provare. Per esempio Todd con il lanzaretto nel terreno. Esatto! Che non posso alzare! Che si roba sulle strade d'Europa! E poi c'è anche una ricerca di droghe con enormi facili costumi. Esatto! Spenderanno insomma un po' di tutto, chiaramente sono a volte se era un video di Nintendo Direct e dieci cose che non sapevamo, tra cui c'è che la fanciunina Rosalinda si chiama? Si. Il Mario Reale diventa un personaggio giocabile, diventa un uomo, diventa un uomo e diventa un uomo e diventa un giocabile, perché la Rufus è il carattere, il camionista del braccio del volo. Fantastico! E' una ricerca. Beh sì, con la principessa camionista ci possono essere. Ci possono essere. Ci possono essere. Allora, quindi, il 3 della settimana esaurito, però ripeto, iPad 1000 per un gioco che uscirà a breve. Il 29. È riccata una recensione online, già un 9.6. 9. Sempre perché il play puro piace a tutti, diciamoci. Ne sa. Facciamo sinta che non ci siano i cubetti di musica colorata e vanno in capo lavoro. Resta interessante. Poi perché la gente sa i haters. No, è sempre Mario. È meglio. Se è Mario, ma è figo, meglio che sia Mario. Bene così. Quindi, dicevamo, la nostra prossima rubrica è la rubrica di a cosa stanno giocando i nostri eroi. Ti chiedono un po' farraginoso. Siamo... Siccome sei un agronico, tipo... Ah, ci... Ah, no. Ci pensi. Ma io sono... Lo sai che sono esterofico? Mi piace tipo... What you are playing? Piuttosto che... No playing. No, no playing, no. Già, c'è. E quindi vi posso dire così che dobbiamo rubarla da qualche altra parte. No bene. Insomma, inventatevela voi. Noi, ovviamente, siamo aperti a consigli. Comincia il dollo. A cosa stai giocando? Dunque, premessa, io sono nella settimana pre-lancio. Quindi mi sto... E che è un capolavoro assoluto. Cioè Airbound. Conosciuto come Airbound negli Stati Uniti, come Modern 2 in Giappone. La prima volta che questo titolo arriva in Europa, grazie alla virtual console del Wii U. Costa 10 bagli occhi, se lo volete giocare. E io lo consiglio assolutamente perché è un JRPG made in Nintendo. E già questo, diciamo, è abbastanza comico. Ma oltre a questo, oltre a avere, diciamo, la classica verb comica di Nintendo, è anche abbastanza grottesco. Cioè, in alcuni punti, è un po' da pelle noga. Soprattutto, occhio che lo gioca allo spunto finale, perché sono nati siti interi per discutere di questo finale molto, molto misterioso. Bene, bene. Quindi, insomma, consigliatissimo. Consigliatissimo. Un gioco molto lungo, però. Quindi, occhio. 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 Allora, tocca a me. Io sto giocando, come al solito, nei miei tempi, cioè al lavoro, quando ando al bagno. Non è vero. Facciamo anticipare. Bene. Io posso dare. Su iOS al nuovo titolo di Team17, un altro software a cui io sono molto legato, che è Worlds 3. sviluppato appositamente per piattaforme. O. E questo nuovo Worms ha da dire alcune cose nuove rispetto al passato. Ci sono le classi dei vermi e... Sono state inserite... E i vermi di classe. E i vermi. E questo è carino. E questo è carino. Questo era molto carino. E ci sono le carte da giocare nei turni. Prima e dopo il turno che influenzano la gravità di costa di alcune armi. Queste appunto le novità. Ci ha un bellissimo online alla Razzle. Cioè tu fai il futuro, poi aspetti l'avversario a fare il futuro, poi ti vuoi ricollegare. Quindi non è una cosa che devi stare dentro. Questo è una volta che finisce davanti. Quindi molto, molto interessante. Però io continuo la mia battaglia contro i controlli mappati sullo schermo dei resti. Cioè il crocerino direzionale che tu devi insomma premere sullo schermo. Perché io sono per i controlli touch. Se lo schermo è touch, se l'aggeggio con cui giorni è touch. E tra l'altro, voglio dire, un gioco come Worms dove la corda ninja è tutto. A darmi quel pad lì è veramente insomma. Quanta soddisfazione. È complicato. Quindi che dire. Sicuramente se siete fan della serie prendetevelo. Tenete conto che secondo me insomma i controlli non sono mai tanto bellissimi. Io invece sono tornato all'estate di quest'anno rispolverando la Wii U. E quindi provando Wonderful 101. Perché mi stava amando di YouTube un gioco? Perché fondamentalmente gran parte del team in Platinum che ha sviluppato da Wonderful 101 faceva parte di Clover Studios. E quindi aveva creato un video di video. È un gioco che sembra molto più... Somiglia a P.D. Train. In realtà poi gli ero di gameplay. Non c'ha nulla in comune del gioco Nintendo. Perché in realtà è più vicino a un gioco a Road of War diciamo. A un action puro. Fatto di mazzati morte. E come mi ha insegnato Dollmaster vi commento. Esatto. Infatti non riuscivo a trovarci non che non mi sono commentato a dovere. Esatto. Devo dire che dal punto di vista visivo è un gioco molto curato e si basa anche su un'idea molto interessante. che è quello appunto di controllare soltanto un personaggio e tutto il dubbio di quelli che tirano intorno per sconfiggere una cintaglia e una che ha attaccato la terra. Tu non avremmo niente da dire. No, torniamo in camera. Io sono sicuro di promuoverlo a tutto tondo perché trovo che abbia dei controlli molto complessi e che proprio il livello di difficoltà sia settato immediatamente da troppo difficile. Lo dici tu. Il problema è che quando un gioco ha poco controllo su quello che succede. Quindi quando la telecamera magari è distante. gli onomi sono tantissimi. Non si capisce bene dov'è quello che uno controlla effettivamente. Diventa tutto molto cacarone. Quindi si finisce alla fine per spingere tutti i tasti insieme e sperare che succeda qualcosa. Vabbè. Questo è tutto. Ma succede molto spesso questo. Cioè è molto bello da vedere. Devo fare due menzioni d'onore. Anzi tre. La prima è che aggiungere Wonder davanti a qualcosa rende tutto bellissimo. Ma è vero. Lo voglio fare. Wonder sulla chiena. Eccomi qua. Sì no è stupenda questa. L'ho provata a fare per un pomeriggio. C'ero anch'io per pomeriggio purtroppo. Esatto. E sono stato guidato in questa notte da Wonder Kabuki. Che è uno dei personaggi. Ma soprattutto da Wonder Birna. Che è il mio nuovo eroe preferito. E' uno dei Wonder Full 100. Perché il 101 sarebbe il giocatore. Quindi ancora non sono sicuro di promuoverlo o meno. Però di sicuro su Wii U c'è talmente poco materiale. E a quel punto evitare pure questo tipo di cosa che è un IP nuova e comunque sia valida. Ma ci sarebbe uno scebbio. D'accordo. Bene. Puntata finita. Tranne... Ci sarebbe l'ipsed exit. Ci sarebbe. Che fai? Si condizionano. Aspettano tutti. Certo. Certo. Carta a canza. Carta a canza. Carta a canza. Come andare avanti il video con... Per celebrare l'uscita di PS4. Un video... Cioè un'ipsed exit che non è contro i fanboy della Sony. Ohhhh. Dai. Noi siamo all'oscuro eh. Quindi arriviamo insieme a voi per l'ipsed exit. Abbiamo un saggio che ci scrive questa perla. Non immediatamente. La capto da vari gruppi di Facebook. Nintendo deve smetterla di tirare fuori i giochi come Zelda. E cominciare a parlare di storie più profonde. Ad esempio quella di Call of Duty Black Ops. Che aveva una trama perfetta. Però attenzione perché questo è molto reno eh. Secondo me se al posto del vecchio e caro Boomerang ci fosse la K47. Certo. Ma come la storia del vecchio e il caro? La mimetica. La mimetica. Giusto. Poi voglio dire pixel un pochino più freddo. Capito. Grazie a certe. Lo spazio. Ma anche il deserto a sembrerà. Non fare una testata amubriare da lasciare contoare. Gli Stati Uniti. Ma comunque gli Stati Uniti. Perché da qualche parte il carico alla fine è uno stato dei segni. Unito certo. Un colpo di scena finale tipo che la principessa Zerbe in realtà è la sorella di Danone. È il giocatore. Sei tu. Sei tu e sei Ghost. Però questo YX ci ha dato molti spunti. Lo promuoverei. Attenzione. Alla prossima puntata rifacciamo lo stesso. E per questo è tutto. Ciao. Ciao.